Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 100 del 2010, lotto 1. Unità immobiliare destinata ad attività commerciale di metri quadri 154. Sito in via Pio XI 162 a 164, Reggio Calabria. Prezzo base, 44.150 euro. Quota, diritti vantati in ragione di due terzi. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maria Martino, telefono 09 65 35 84 36. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 100 del 2010, lotto 3. Unità immobiliare destinata a locale deposito di metri quadri 45 circa, posto al piano terra. Sito in via Traversa Luigi De Blasio numero 2, Reggio Calabria. Prezzo base, 12.575 euro. Quota, diritti vantati in ragione di due terzi. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maria Martino, telefono 09 65 35 84 36. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 101 del 1996, lotto unico. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al primo piano. Sito in via Clearco, Reggio Calabria. Prezzo base, 58.012 euro e 50 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, aula delle udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Luigia Ombretta Florio, telefono 09 65 59 90 03. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 103 del 2011, lotto unico. Unità immobiliari per civile e abitazione divani 5,5. Sito in via Andrea Costa numero 9, Melito di Porto Salvo. Prezzo base, 26.578 euro e 12 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Riccardo Tripepi, telefono 09 65 81 06 94. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 104 del 2013, lotto unico. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al quarto piano, con annessa cantina posta al piano terra. Sito in via Leroccola Russa numero 217, Villa San Giovanni. Prezzo base, 32.063 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Vittoria Porcelli, telefono 09 65 31 29 92. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 109 del 2011, lotto unico. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al primo piano divani 6,5. Garage di metri quadri 15. Sito in località Mesofugna, via Fondo Vena, Bova Marina. Prezzo base, 27.290 euro e 3 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 maggio 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 20 maggio 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Carolina Musico, telefono 338 202 95 30. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 112 del 2012, lotto 1. Terreno con sovrastante capannone adibito ad hangar, costituito da un piano terra ed un soppalco, all'esterno di esso è presente una pista di atterraggio e di decollo. Sito in Villa San Giovanni. Prezzo base, 533.025 euro. Quota, come da allegati. Vendita senza incanto. 27 aprile 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 27 aprile 2015 alle ore 12. Luogo della vendita, presso lo studio del professionista delegato dottor Maurizio Alfieri. Sito in Reggio di Calabria, via Trento numero 2. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 112 del 2012, lotto 2. Fabbricato di forma semicircolare a tre piani fuori terra, adibito a Palazzina Servizi. Sito in Villa San Giovanni. Prezzo base, 391.425 euro. Quota, come da allegati. Vendita senza incanto. 27 aprile 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 27 aprile 2015 alle ore 12. Luogo della vendita, presso lo studio del professionista delegato dottor Maurizio Alfieri. Sito in Reggio di Calabria, via Trento numero 2. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 118 del 2009, lotto unico. Unità immobiliari per civile e abitazione posta al terzo piano. Sito in Via Abate Sant'Elia, località Ravagnese, Reggio Calabria. Prezzo base, 31.300 euro e 50 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Stefani Aleuzzi, telefono 09 65 89 13 33. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 132 del 2012, lotto unico. Unità immobiliari per civile e abitazione posta al primo piano, con onnesso vano pertinenziale posto sul terrazzo, della superficie commerciale di metri quadri 173,38. Sito in Via Borrace Crocevia numero 34, Reggio Calabria. Prezzo base, 87.468 euro e 75 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maria Teresa Monastero, telefono 09 65 295 63. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 13 del 1998, lotto 1. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al piano sottostrada di un maggior fabbricato a tre piani fuori terra e piano sottostrada con onnesso terreno di pertinenza delimitato con recinzione, vani 6,5. Sito in frazione Gallina, via Cipollaccio, Reggio Calabria. Prezzo base, 16.163 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Auleudienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Monica Santonoceto, telefono 09 65 89 27 76. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 13 del 1998, lotto 2. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al primo piano fuori terra di un maggior fabbricato a tre piani fuori terra e piano sottostrada con onnesso terreno di pertinenza delimitato con recinzione, vani 6,5. Sito in frazione Gallina, via Cipollaccio, Reggio Calabria. Prezzo base, 21.470 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Auleudienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Monica Santonoceto, telefono 09 65 89 27 76. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 145 del 2012, lotto unico. Unità immobiliare per civile e abitazione, con onnesso vano tecnico posto al piano quinto sottotetto, posta al quarto piano. Annessa unità immobiliare destinata ad autorimessa di metri quadri 25 posta al piano terra. Sito in frazione Archie, strada statale numero 18 Tirrena inferiore numero 1 barra B, Reggio Calabria. Prezzo base, 87.750 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maria Elena Giovannella, telefono 09 65 480 26. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 146 del 2007, lotto 10. Unità immobiliari per civile e abitazione posta al terzo piano. Sito in via Pasquale Andiloro, Reggio Calabria. Prezzo base, 3083 euro. Quota, diritti vantati in ragione di un mezzo. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Occhiuto, telefono 09 65 214 93. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 146 del 2007, lotto 2. Posto autoscoperto, posto al piano terra locale, deposito posto al piano seminterrato, oltre lastrico solare soprastante e piano cantinato. Sito incontra da Livari Inferiore Traversa Privata Occhiuto numero 20, Reggio Calabria. Prezzo base, 8164 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Occhiuto, telefono 09 65 214 93. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 146 del 2007, lotto 3. Unità immobiliari per civile e abitazione posta al secondo piano, oltre seminterrato. Sito in via Mario Trapezzi numero 116, Reggio Calabria. Prezzo base, 8.575 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Occhiuto, telefono 09 65 214 93. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 146 del 2007, lotto 5. Posto autoscoperto al piano terreno, all'interno di un lotto di terreno di pertinenza di un maggior fabbricato a tre piani fuori terra oltre seminterrato. Sito in via Mario Trapezzi numero 116, Reggio Calabria. Prezzo base, 1.081 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Occhiuto, telefono 09 65 214 93. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 146 del 2007, lotto 6. Lastrico solare a copertura di un maggior fabbricato a tre piani fuori terra oltre seminterrato. Sito in via Mario Trapezzi numero 116, Reggio Calabria. Prezzo base, 6.802 euro e 50 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Occhiuto, telefono 09 65 214 93. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 146 del 2007, lotto 7. Capannone ad un piano fuori terra. Sito in frazione gallina, contrada all'ivari inferiore, località fondaco Menga, Reggio Calabria. Prezzo base, 9.168 euro. Quota, diritti vantati in ragione di un mezzo. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Occhiuto, telefono 09 65 214 93. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 146 del 2007, lotto 9. Lastrico solare posto al secondo piano, facente parte di un fabbricato di maggior consistenza, sul quale è stato edificato abusivamente un locale composto da numero 6 ambienti oltre servizio igienico e disimpegno. Sito in via sbarra inferiore numero 290, Reggio Calabria. Prezzo base, 6.037 euro. Quota, diritti vantati in ragione di un mezzo. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Occhiuto, telefono 09 65 214 93. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 156 del 2012, lotto unico. Unità immobiliare costituita da un locale ad uso commerciale costituito da un piano terra adibito a bar, pizzeria e salette ristorante, da un piano soppalco adibito a saletta ristorante e da un piano seminterrato, attualmente inaccessibile. Sito in via G. Arcovito numero 10, Reggio Calabria. Prezzo base, 47.460 euro e 94 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Aule Audienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Vittoria Porcelli, telefono 09 65 31 29 92. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 159 del 2011, lotto 1. Unità immobiliare posta al piano terra di metri quadri 258. Sito in Gallico, via Marina numero 7, Reggio Calabria. Prezzo base, 155.578 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 22 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 22 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giada Patanè, telefono 32 86 12 26 18. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 168 del 2011, lotto unico. Unità immobiliari per civile e abitazione posta al secondo piano. Sito in frazione archi Contrada Armacalla via Vecchia Provinciale, Reggio Calabria. Prezzo base, 78.468 euro e 75 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aula delle udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Dario Pietro Catalano, telefono 09 65 33 07 68. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 173 del 2012, lotto unico. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al piano terra. Sito in via Roma numero 50, Melito di Porto Salvo. Prezzo base, 54.337 euro e 50 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maria Laura Curatola, telefono 09 65 89 18 63. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 178 del 2011, lotto unico. Unità immobiliari per civile e abitazione costituita da un fabbricato bifamiliare che si sviluppa su tre piani fuori terra oltre piano interrato da adibire a parcheggi e cantina. Sito in frazione Emelia, via Garibaldi, campo Calabro. Prezzo base, 72 931 euro e 64 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Vincenzo Laganà, telefono 09 65 189 01 42. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 180 del 2013, lotto unico. Appartamento per civile e abitazione al piano terzo e divani 7. Sito in via Ravagnese superiore numero 5, Reggio Calabria. Prezzo base, 132 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 maggio 2015 alle ore 10 e 30. Vendita con incanto. 12 maggio 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maria Vanessa Russo, telefono 09 65 473 39. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 189 del 2009, lotto uno. Unità immobiliari per civile e abitazione posta al piano terra. Sito in località Lazzaro, via Olivitello, motta San Giovanni. Prezzo base, 4851 euro e 96 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Fabio Marchese, telefono 09 65 89 18 63. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 189 del 2009, lotto 3. Terreno di metri quadri 6925. Sito in località Carrano, Cardeto. Prezzo base, 3509 euro e 45 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Fabio Marchese, telefono 09 65 89 18 63. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 18 del 2007, lotto 4. Unità immobiliare destinata a magazzino, deposito ed adibita a negozio con cortile annesso. Sito in via Demetrio Tripepi numero 62, Reggio Calabria. Prezzo base, 89 437 euro e 50 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, aule udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Sergio Gravina, telefono 09 65 81 31 88. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 18 del 2008, lotto unico. Unità immobiliari per civile e abitazione costituita da un villino con corte e sottotetto. Sito in via delle ville numero 6, località Gambarie, Santo Stefano in Aspromonte. Prezzo base, 13 348 euro e 30 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvio Lucisano, telefono 09 65 210 22. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 198 del 2010, lotto unico. Fabbricato industriale a due piani fuori terra, costituito da un piano terra adibito a deposito e da un piano soprastante destinato ad uffici. Sito in via Cartisano numero 9, Reggio Calabria. Prezzo base, 483 750 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Ilenia Quattroocchi, telefono 09 65 210 22. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 23 del 1990, lotto uno. Vecchio fabbricato con annessa corte di 78 metri quadri circa divani 10,5. La superficie commerciale è costituita da un cortile annesso all'unità immobiliare di circa 50 metri quadri, dal vano seminterrato di 54 metri quadri e dall'appartamento posto al piano terra e dal primo piano divani 8 più servizi e 20 una superficie pari a circa 140 metri quadri. Sito in località Colelli, via Bergamo numero 78, San Roberto. Prezzo base, 7.578 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, aula delle udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Monica Santonoceto, telefono 09 65 89 27 76. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 23 del 1990, lotto due. Fondo rustico di aree 28 e 20 centiere. Sito in località Colelli, Contrada San Nicola, San Roberto. Prezzo base, 3.431 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, aula delle udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Monica Santonoceto, telefono 09 65 89 27 76. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 23 del 1990, lotto tre. Fonduscolo di aree 7 e 70 centiere. Sito in località Colelli, Contrada San Nicola, San Roberto. Prezzo base, 17.696 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aula delle udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Monica Santonoceto, telefono 09 65 89 27 76. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 26 del 2011, lotto unico. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al secondo piano divani 4,5. Sito in frazione Gallico Marina via Pozzicello numero 9, Reggio Calabria. Prezzo base, 39.412 euro e 50 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 5 maggio 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, aula delle udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Rocco Lucera, telefono 09 65 295 47. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 31 del 2013, lotto uno. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al piano terra e primo divani 5,5. Sito in località San Carlo, via Passo Masseria, Condofuri. Prezzo base, 70.875 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giuseppe Pardo, telefono 09 65 89 05 99. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 31 del 2013, lotto due. Terreno coltivato da grumeto. Sito in località San Carlo, Condofuri. Prezzo base, 2.182 euro e 50 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giuseppe Pardo, telefono 09 65 89 05 99. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 31 del 2013, lotto tre. Terreno. Sito in località San Carlo, Condofuri. Prezzo base, 551 euro e 25 centesimi. Quota, nuda proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giuseppe Pardo, telefono 09 65 89 05 99. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 35 del 2013, lotto unico. Terreno circostante di metri quadri 2060. Lastrico solare di metri quadri 85. Unità immobiliare per civile e abitazione divani 6. Sito in contrada Scantinato Andrea Ocase Scantinato Andrea Armo, Reggio Calabria. Prezzo base, 60 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 14 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aula delle udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Felice Carmelo Lavena, telefono 335 756 67. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 36 del 1983, lotto uno. Unità immobiliari destinata ad uso negozio di metri quadri 103,68, posta al piano terra, di un maggior fabbricato a sei piani fuori terra oltre seminterrato. Sito in strada statale 18, Reggio Calabria. Prezzo base, 90 mila 843 euro e 75 centesimi. Quota, come da allegati. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aula delle udienze, Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Domenico Marturano, telefono 09 65 89 46 75. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 36 del 1983, lotto due. Unità immobiliari destinata ad uso negozio di metri quadri 69,33, posta al piano terra, di un maggior fabbricato a sei piani fuori terra oltre seminterrato. Sito in via strada statale 18, Reggio Calabria. Prezzo base, 60.862 euro e 50 centesimi. Quota, come da allegati. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aula delle udienze, Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Domenico Marturano, telefono 09 65 89 46 75. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 36 del 1983, lotto tre. Unità immobiliari per civile e abitazione di metri quadri 111,83 posta al primo piano, di un maggior fabbricato a sei piani fuori terra oltre seminterrato. Sito in via strada statale 18, Reggio Calabria. Prezzo base, 52.537 euro e 50 centesimi. Quota, come da allegati. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aula delle udienze, Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Domenico Marturano, telefono 09 65 89 46 75. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 36 del 1983, lotto quattro. Unità immobiliari per civile e abitazione di metri quadri 91,82 posta al secondo piano, di un maggior fabbricato a sei piani fuori terra oltre seminterrato. Sito in via strada statale 18, Reggio Calabria. Prezzo base, 50.962 euro e 50 centesimi. Quota, come da allegati. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aule udienze, Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Domenico Marturano, telefono 09 65 89 46 75. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 36 del 1983, lotto 5. Unità immobiliari per civile e abitazione di metri quadri 342,55 posta al terzo piano, di un maggior fabbricato a sei piani fuori terra oltre seminterrato. Sito in via strada statale 18, Reggio Calabria. Prezzo base, 188.718 euro e 75 centesimi. Quota, come da allegati. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aule udienze, Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Domenico Marturano, telefono 09 65 89 46 75. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 38 del 1999, lotto 1. Costruzione ad un piano fuori terra, costituita da due locali di cui uno adibito a ristorante, pizzeria e l'altro ad autocarrozzeria. Sito in località Paci, Scilla. Prezzo base, 21.809 euro e 92 centesimi. Quota, quota parte di due terzi. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, aule udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Lucia De Benedetto, telefono 09 65 260 16. Tribunale di Reggio Calabria. Procedura esecutiva numero 38 del 1999, lotto 2. Appartamento. Sito in via nazionale, Scilla. Prezzo base, 9.395 euro e 20 centesimi. Quota, quota parte un sesto. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Luogo della vendita, aule udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Lucia De Benedetto, telefono 09 65 260 16. Tribunale di Reggio Calabria. Procedura esecutiva numero 38 del 2013, lotto 1. Appartamento con relativi terreni e pertinenza. L'appartamento si sviluppa su due piani, piano terra di circa 187 metri quadri e piano cantina di circa 23 metri quadri. Sito in Reggio Calabria. Prezzo base, 22.204 euro. Quota, come da allegati. Vendita senza incanto. 27 aprile 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 27 aprile 2015 alle ore 12. Luogo della vendita, presso lo studio del professionista delegato dottor Maurizio Alfieri via Trento numero 2. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Reggio Calabria. Procedura esecutiva numero 44 del 1983, lotto unico. Terreno a vocazione turistico residenziale seminativo, di metri quadri 2411. Sito in località Lemboanna, melito di Porto Salvo. Prezzo base, 63.040 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, aule udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Giuseppe Spano, telefono, 09 65 37 03 72. Tribunale di Reggio Calabria. Procedura esecutiva numero 54 del 2012, lotto unico. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al quinto piano. Garage posto al piano terra di metri quadri 16. Sito in frazione Catona, via Villaggio Arghilla Sud numero 48, Reggio Calabria. Prezzo base, 135.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Lucia De Benedetto, telefono, 09 65 260 16. Tribunale di Reggio Calabria. Procedura esecutiva numero 61 del 1994, lotto uno. Unità immobiliaria di vita a magazzino posta al piano terra. Sito in via nazionale, Reggio Calabria. Prezzo base, 33.380 euro e 85 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Aule Audienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Sergio Labozzetta, telefono, 09 65 81 76 71. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 61 del 1994, lotto due. Unità immobiliaria di vita a civile e abitazione posta al piano primo. Sito in via nazionale, Reggio Calabria. Prezzo base, 31.007 euro e 81 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Aule Audienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Sergio Labozzetta, telefono, 09 65 81 76 71. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 61 del 1994, lotto tre. Unità immobiliaria di vita a civile e abitazione posta al piano secondo. Sito in via nazionale, Reggio Calabria. Prezzo base, 31.007 euro e 81 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Aule Audienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Sergio Labozzetta, telefono, 09 65 81 76 71. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 61 del 1994, lotto quattro. Unità immobiliaria di vita a civile e abitazione posta al piano terzo. Sito in via nazionale, Reggio Calabria. Prezzo base, 31.007 euro e 81 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Aule Audienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Sergio Labozzetta, telefono, 09 65 81 76 71. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 62 del 2009, lotto 1. Opificio. Sito in via Tripodi, Melito di Porto Salvo. Prezzo base, 60.766 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Maurizio Alfieri, telefono, 09 65 81 03 93. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 64 del 2009, lotto 1. Unità immobiliari per civile e abitazione posta al primo piano. Sito in via per i poli numero 10, Condofuri. Prezzo base, 15.316 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9.00. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Francesco Lia, telefono, 09 65 33 12 61. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 64 del 2009, lotto 2. Terreno di metri quadri 31 destinato al ricovero di animali. Sito in via per i poli, Condofuri. Prezzo base, 404 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 aprile 2015 alle ore 9.00. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Francesco Lia, telefono, 09 65 33 12 61. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 71 del 2009, lotto 1. Unità immobiliare destinata a deposito posta al piano terra di metri quadri 124. Sito in via alla volta numero 11, Villa San Giovanni. Prezzo base, 22 439 euro e 10 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 14 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, aule udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvio Lucisano, telefono, 09 65 210 22. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 71 del 2009, lotto 2. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al primo piano divani 9,5 e una superficie commerciale di metri quadri 258,30. Sito in via alla volta numero 11, Villa San Giovanni. Prezzo base, 78 455 euro e 90 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 14 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, aule udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvio Lucisano, telefono, 09 65 210 22. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 71 del 2009, lotto 3. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al secondo piano divani 9,5 e una superficie commerciale di metri quadri. Quadri 258,30. Sito in via alla volta numero 11, Villa San Giovanni. Prezzo base, 87 944 euro e 70 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 14 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, aule udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvio Lucisano, telefono, 09 65 210 22. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 71 del 2009, lotto 4. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al terzo piano divani 9,5 per una superficie commerciale di metri quadri. 258,30. Sito in via alla volta numero 11, Villa San Giovanni. Prezzo base, 87 176 euro e 25 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 14 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, aule udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvio Lucisano, telefono, 09 65 210 22. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 73 del 2008, lotto 1. Unità immobiliare costituita da, fabbricato rurale di 30 centiere. Fabbricato rurale aree 02 e 86 centiere. Area di metri quadri 690 sulla quale insistono una tettoia con struttura metallica adibita a deposito, un capannone industriale adibito a deposito, con all'interno un locale uso ufficio, ed un capannone industriale. Sito in frazione Archie, Reggio Calabria. Prezzo base, 308.032 euro. Quota, come da allegati. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Maria Grazia Palamara, telefono 09 65 89 86 68. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 73 del 2008, lotto 3. Diritti vantati in ragione di un quarto sul suolo della superficie commerciale complessiva di metri quadri 1310 dei quali metri quadri 208 destinati a capannone agricolo industriale e metri quadri 1102 ad Agrumeto. Sito in località Salice Calabro, Reggio Calabria. Prezzo base, 3746 euro. Quota, diritti vantati in ragione di un quarto. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Maria Grazia Palamara, telefono 09 65 89 86 68. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 81 del 2011, lotto 9. Unità immobiliari destinata ad autorimessa posta al seminterrato, consistenza catastale metri quadri 5. Sito in via Cappuccinelli di Ramazione Zagarella numero 56, Reggio Calabria. Prezzo base, 2109 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.00. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Maurizio Alfieri, telefono 09 65 81 03 93. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 88 del 1994, lotto 3. Terreno di aree 10. Sito in campo Calabro. Prezzo base, 8.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.00. Luogo della vendita, aule udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giuseppino Ascali, telefono 09 65 92 02 85. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 88 del 2013, lotto 1. Unità immobiliare destinata ad attività commerciale della superficie complessiva di metri quadri 133, posta al piano terra. Sito in via Roma, melito di Porto Salvo. Prezzo base, 115.959 euro e 37 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Caterina Notaro, telefono 320 812 09 13. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 88 del 2013, lotto 2. Unità immobiliari per civile e abitazione costituita da una villetta di tipo unifamiliare residenziale, della superficie complessiva di metri quadri 207, composta da due livelli e semi-interrato. Sito in via San Giuseppe numero 32, località Anna, Melito di Porto Salvo. Prezzo base, 89.656 euro e 87 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Caterina Notaro, telefono 320 812 09 13. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 91 del 2013, lotto 1. Porzione di fabbricato industriale costituito da tre corpi di fabbrica adiecenti separati tra loro da pareti divisorie, della superficie commerciale totale di metri quadri 669. Sito in via Patera, Campo Calabro. Prezzo base, 268.875 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, aula delle udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Carlo Malara, telefono 09 65 81 18 44. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 91 del 2013, lotto 2. Porzione di fabbricato industriale costituito da tre corpi di fabbrica adiecenti, della superficie commerciale totale di metri quadri 557. Sito in via Patera, Campo Calabro. Prezzo base, 221.625 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, aula delle udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Carlo Malara, telefono 09 65 81 18 44. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 91 del 2013, lotto 3. Fabbricato industriale costituito da tre corpi di fabbrica adiecenti, della superficie commerciale totale di metri quadri 1.500. Sito in via Patera, Campo Calabro. Prezzo base, 415.125 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.00. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9.30. Luogo della vendita, aula delle udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Carlo Malara, telefono 09 65 81 18 44. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 96 del 1991, lotto 1. Unità immobiliare costituita da, fabbricato rurale di metri quadri 65,55 oltre metri quadri 34,45 di corte. Terreno di metri quadri 8.675. Terreno di metri quadri 502. Terreno di metri quadri 5. Sito in frazione Archipentimele, località Fondo Adamo, Reggio Calabria. Prezzo base, 8.352 euro e 85 centesimi. Quota, diritti di un mezzo. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aula e udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Concetta Gangemi, telefono 329 432 95 94. Tribunale di reggio Calabria, procedura esecutiva numero 96 del 1991, lotto 2. Unità immobiliare costituita da, terreno di metri quadri 8.250. Fabbricato rurale di metri quadri 160. Terreno di metri quadri 600. Terreno di metri quadri 460. Sito in frazione Archipentimele, località Fondo Canale e Lupardino, Reggio Calabria. Prezzo base, 2844 euro e 19 centesimi. Quota, diritti di un mezzo. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aula e udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Concetta Gangemi, telefono, 329, 432, 95, 94. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 96 del 1991, lotto 3. Unità immobiliare costituita da, terreno di metri quadri 240. Terreno di metri quadri 31.880. Sito in frazione Archipentimele, località Fondo Canale e Lupardino, Reggio Calabria. Prezzo base, 8441 euro e 1 centesimo. Quota, diritti di un mezzo. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aula e udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Concetta Gangemi, telefono, 329, 432, 95, 94. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 96 del 1991, lotto 4. Unità immobiliare costituita da, terreno di metri quadri 2000. Sito in frazione Archipentimele, località Marrani Torrente Muriddi, Reggio Calabria. Prezzo base, 225 euro e 24 centesimi. Quota, diritti di un mezzo. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, aula e udienze presso Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Concetta Gangemi, telefono, 329, 432, 95, 94. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 9 del 2008, lotto 1. Unità immobiliare costituita da un fabbricato. Sito in via Montessori numero 7, Terranova Sappo Minulio. Prezzo base, 741 euro e 51 centesimi. Quota, diritti vantati, in ragione di un ottavo. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Manuela Buffon, telefono, 09, 65, 32, 43, 96. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 9 del 2008, lotto 2. Unità immobiliare, reper civile e abitazione posta al piano terra con annesso box auto al piano seminterrato. Sito in frazione Pietrastorta, località Celatone, Reggio Calabria. Prezzo base, 11758 euro e 44 centesimi. Quota, diritti vantati, in ragione di un sesto. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Manuela Buffon, telefono, 09, 65, 32, 43, 96. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 9 del 2008, lotto 3. Unità immobiliare per civile e abitazione allo stato rustico, con pertinenza posta al piano primo e seminterrato. Sito in frazione Pietrastorta, località Celatone, Reggio Calabria. Prezzo base, 7831 euro e 5 centesimi. Quota, diritti vantati, in ragione di un sesto. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Manuela Buffon, telefono, 09, 65, 32, 43, 96. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 9 del 2008, lotto 4. Unità immobiliare per civile e abitazione allo stato rustico posta al secondo piano di un maggior fabbricato a tre piani fuori terra, più piano interrato e piano secondo. Sito in frazione Pietrastorta, Celatone, Reggio Calabria. Prezzo base, 7949 euro e 70 centesimi. Quota, diritti vantati, in ragione di un sesto. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Manuela Buffon, telefono, 09, 65, 32, 43, 96. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 9 del 2008, lotto 5. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al secondo piano di un maggior fabbricato a tre piani fuori terra. Sito in via Reggio Campi numero 27 barra A, Reggio Calabria. Prezzo base, 5932 euro e 61 centesimi. Quota, diritti vantati, in ragione di un sesto. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Manuela Buffon, telefono, 09, 65, 32, 43, 96. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 9 del 2008, lotto 7. Unità immobiliare per civile e abitazione posta al primo piano, più piano seminterrato. Sito in via Reggio Campi numero 10 barra A, Reggio Calabria. Prezzo base, 14238 euro e 27 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 21 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Reggio Calabria. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Manuela Buffon, telefono, 09, 65, 32, 43, 96. Tribunale di Reggio Calabria, procedura esecutiva numero 9 del 2012, lotto unico. Unità immobiliare per civile e abitazione al piano secondo e terzo divani 9. Sito in via Porto Salvo numero 65, melito di Porto Salvo. Prezzo base, 87.750 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 29 aprile 2015 alle ore 9. Vendita con incanto. 29 aprile 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Palazzo Cedir. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Grazia Amodeo, telefono, 09, 65, 37, 02, 92. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti